Eccoci qua, allora si va parlando in questo video della vista nostra che abbiamo, della quantità di vista che abbiamo nello spazio e nell'universo, dei filtri, delle telecamere e come togliere il filtro a una telecamera per farla diventare full spectrum, quindi vedere anche la parte infrarossa e quella ultravioletta. Intanto partiamo un attimino dalla differenza, questo qui vedete questa qui è la banda visiva, il visibile dove ho la manina ora è da qui a qui, vedete? Perché ci sono dei filtri che bloccano questa parte qui e quest'altra in fondo, quindi le frequenze più basse e quelle più alte. Questo qua invece, questo sopra che vedete qui, è il full spectrum, quindi oltre alla banda visibile che finisce dove ho la mano e dove ho la mano qui, abbiamo anche tutta la parte infrarossa e ultravioletta. verso l'infrarosso si va nelle frequenze basse e in ultravioletto si va anche nelle alte. Questa intanto è la differenza tra il visibile classico e la telecamera full spectrum. C'è un bel po' di spaziatura in più nella ripresa, si riescono a riprendere anche alcune forme di energia che stanno qua giù nell'ultravioletto o in fondo all'infrarosso, tipo le cose calde o fredde dell'ambiente. Poi, questo è per quelli che non lo sapessero, questa fascetta che vedete piccolina qui è quello che noi vediamo e invece questo nero sopra, da in cima a in fondo, è tutto quello che ci circonda. Noi vediamo semplicemente un meno del 19% di quello che abbiamo intorno. Quindi vedete qui è ingrandita, questa è la nostra vista classica, che è questo spicchio piccolino piccolino piccolino. Non vediamo niente di cosa c'è di qua e di là. E qui poi è riportata l'ultravioletta all'infrarossa, quella delle telecamere fosfetto. Che non arriveranno comunque per ora le altre bande, magari. Poi, praticamente ora qui vi faccio vedere, in alcuni tipi di obiettivi, questi sono gli obiettivi delle telecamere un pochino più economiche, diciamo quelle che costano sulle 150-300 euro e le chiamano night vision che praticamente hanno con la funzione in bianco e nero che vedete tramite l'illuminatore di notte. Per farle diventare full spectrum bisogna levare, nei tipi di obiettivi che avete, questo vetrino. A volte è quadrato, vedete? È quadrato, è incollato in 4 punti soli, col taglierino viene via. A volte è rotondo, ma è incollato in 2 punti soli, sempre col taglierino viene via. A volte invece è in fondo, alla vite dell'obiettivo. Comunque è sempre nel mezzo tra l'obiettivo e il CCD, che poi vi farò vedere qual è. Quindi si toglie questa protezione, dopodiché passano ultravioletti infrarossi, ok? Diventa full spectrum. Vi faccio vedere, praticamente questa è una sport cam di quelle piccoline. Si può fare anche nella sport cam. Vedete dove va il filtro? È in fondo alla lente, quindi si svita, vi si cava questo filtrino e si riavvira. Ora qui fanno vedere alcuni componenti, perché pensano di cambiare la focalità, il focus della telecamera, però se avete una sport cam di queste piccole, un action cam, potete farla diventare full spectrum, metterla sulla fronte e usarla come ghost hunter la notte, insomma. Perfettamente funzionante come quelle che costano un sacco di soldi. Quindi lo potete fare anche con una sport cam, con una di queste telecamere piccole. Anche con la GoPro. Ecco, qui vi faccio vedere le telecamere professionali dove hanno il filtro. Qua su sopra, dove c'è la manovra, ci sta l'obiettivo a vite. Qua giù sotto ci sta il CCD. Qui bisogna stare attenti per togliere questo filtro, perché anche questo è incollato in un angolino e basta. Però non dovete assolutamente toccare il sensore e manco farci cascare la polvere. Quindi nelle telecamere professionali, con il CCD quadrato da mezzo pollice, il vetro da togliere è questo qui, ok? Bene, io interrompo questo video. Speriamo che vi sia piaciuto questa spiegazione. È una spiegazione tecnica per chi vuole fare questa modifica, ma comunque anche per chi vuole sapere di più sulla Full Spectrum e non. Un abbraccio a tutti da Stefano del GRP. Ciao a tutti ragazzi!